281 è il numero dei decessi per covid nel Catanese registrati nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022. Il dato è stato diffuso dall'ufficio emergenza covid dell'aspe di Catania e fotografa la situazione in piena quarta ondata pandemica. Un numero alto di decessi che ha colpito i comuni del Catanese in maniera diversa. Il capologo Etneo è il primo comune per numero di decessi con 97 morti, segue Caltagirone con 18 decessi nei due mesi e paternò con 17 decessi nella bimestre. Nel comprensorio tra i comuni che superano i 10 decessi nella bimestre vi è solo Adrano con 12 morti. Va evidenziato comunque che la quasi totalità dei comuni si mantengono sotto i 10 decessi. Il dato non riesce però a fornire una fotografia chiara della situazione visto che non è stato diffuso un elemento importante. capire quante di queste persone erano vaccinate e non vaccinate. Intanto sul fronte del contagio continua per fortuna a scendere il numero dei positivi. A paternò oggi 457 rispetto ai 464 di ieri. Preoccupa invece il numero degli ospedalizzati che continua a salire fermandosi a 23 con paternò secondo comune con il dato più alto dopo Catania. Intanto vanno avanti anche le vaccinazioni sia al punto vaccinale dello svedale Santissimo Salvatore sia al centro un nonno per amico. Dopo il boom di inizio anno le vaccinazioni proseguono anche se con ritmi leggermente più bassi. Ci si vaccina sia per prime dosi con l'attività che non riguarda però soli giovanissimi ma anche quanti ad oggi hanno scelto di non vaccinarsi. E si continua con seconde dosi e terze dosi booster.